Piacenza è fanalino di coda dell'intera Emilia Romagna, con i suoi 14 locali iscritti al programma Alimentazione Fuori Casa dell'Associazione Italiana Cegliachia. Il dato emerge oggi che inizia la settimana nazionale della Cegliachia. Ad aderire nel nostro territorio sono 12 comuni per un totale di 9.700 bambini delle mense scolastiche a cui verrà servito un pasto rigorosamente gluten free. A Piacenza sono invece 1.109 le persone a cui è stata diagnosticata un in tolleranza al glutine, mentre gli iscritti ad AIC provinciale sono solo 335, a fronte di 324 registrati lo scorso anno. È già da anni che noi di AIC Emilia Romagna, sede di Piacenza, stiamo segnalando perché abbiamo anche organizzato una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con il Comune e le associazioni di categoria. Nonostante questo abbiamo ancora pochissimi locali, soltanto 14 di cui sei in città. Quello che noi ci teniamo molto è che il ristorante si informino perché a volte lasciano perdere perché pensano che sia impossibile, invece no, ce ne sono tantissimi in altre città, quindi vuol dire che è possibile. Informatevi, rivolgetevi al nostro sito www.aic.emiliaromagna.it e vi daremo tutte le informazioni. Quindi forza, anche Piacenza deve fare la sua parte.